Resta il suicidio l'ipotesi più probabile per spiegare il gesto di una donna di 45 anni che ha perso la vita in corso Rosselli precipitando dal balcone di casa al quarto piano. E' successo tutto domenica pomeriggio al numero civico 76. Inutile l'intervento dei soccorsi, la 45enne è morta sul colpo precipitando su una tettoia. Per recuperare il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco arrivati insieme alla Polizia di Stato che si è occupata di quanto avvenuto. Prima di cadere nel vuoto la donna non aveva scritto alcun tipo di biglietto.